Imprese private e pubbliche che sostengono la cultura attraverso l'Art Bonus se ne parla in un convegno al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Da alcuni anni lo Stato consente alle aziende che finanziano attività culturali uno sgravio fiscale del 65%. Un esempio? Publiacqua. Dal 2015 al 2019 ha contribuito con 530.000 euro al mantenimento delle associazioni che si occupano di cultura sul territorio toscano. Il convegno è proprio per creare un'alleanza tra le grandi aziende economiche e le grandi istituzioni culturali. È la prima volta che ci riuniamo, grazie a CISPEL abbiamo iniziato questo percorso e riteniamo che possa essere un percorso molto virtuoso per parte dalla Toscana e poi si estenderà a livello nazionale. Dal punto di vista economico è fondamentale riuscire a ottenere sostegno da quelle che sono realtà economiche importanti del nostro paese. Dall'altro per l'accreditamento perché ogni grande evento culturale, ogni grande istituzione culturale ha bisogno anche di un riconoscimento e questo è un mezzo molto forte. In un'Italia dove c'è tanta esigenza di risorse per le scuole, per la sanità, per le esigenze primarie, poter affrancare almeno in parte la cultura dall'esigenza di finanziamenti pubblici è non soltanto una bella cosa ma è proprio un dovere. E quindi questa alleanza va anche in quella direzione. Cerchiamo di camminare per quanto possibile sempre più con le nostre gambe, con l'aiuto di privati e anche di grandi aziende economiche pubbliche. Il nostro mondo si trova da una parte con aziende importanti, strutturati, industriali che erogano servizi fondamentali per i cittadini, dall'acqua ai rifiuti ai trasporti al gas, pronti a sostenere la cultura. Dall'altra parte abbiamo molte aziende iscritte con noi che sono i fruitori o possono essere i fruitori di questi contributi.